Musica Bisogna accendere la speranza nei giovani e motivarli a realizzare i propri sogni. Il nuovo anno scolastico è cominciato all'insegna dell'entusiasmo all'istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco, come in altre scuole del territorio. Clima più sereno, senza l'incubo della pandemia e tanti progetti in cantiere. Ai nostri microfoni la dirigente scolastica Olimpia Tedeschi. Ci auguriamo che possa essere un anno più sereno, un anno anche vissuto con maggiori relazioni e con una buona qualità di relazione, quello che è mancato proprio in questi anni. Com'è stata questa ripartenza per i docenti e per gli alunni? Quest'anno ho visto tanto entusiasmo da parte dei ragazzi che veramente erano gioiosi di poter cominciare questo percorso scolastico e anche i docenti, anche quelli un po' più anziani, più stanchi. Mi è sembrato che ci fosse una rinascita generale perché la scuola è mancata con tutte le sue attività e quindi sta riprendendo alla grande. Speriamo che continui così. Tra le novità di quest'anno ci sono fondi relativi al PNRR destinati a questa scuola. A cosa serviranno? Sì, quest'anno devo dire che siamo stati baciati dalla fortuna. Tutta la scuola italiana può usufruire di questi fondi europei. Abbiamo presentato le nostre candidature e grazie a Dio ci sono state accolte. Quindi noi avremo la possibilità di spendere questi fondi per settori vincolati che riguardano l'innovazione dell'ambiente e soprattutto creare degli ambienti didattici che siano più stimolanti alla luce delle novità digitali ma anche alla luce proprio dei nuovi arredi, dei colori, delle attività laboratoriali. Non mancheranno le attività progettuali e le iniziative a cominciare dal 17 ottobre con il Depression Day. Sì, il 17 ottobre abbiamo questo incontro ufficiale, un seminario alle 10 del mattino aperto ai nostri studenti della scuola media e anche a qualche genitore che è disponibile dove rifletteremo con delle personalità come il dottor Tavormina, la psicologa Maria Giorno ma anche il dottor Damiano che ha scritto delle bellissime poesie sulla depressione. Rifletteremo su questo tema. Quindi vorremmo educare questi ragazzi a tirar fuori le loro emozioni, a saperle gestire e a guardare anche con occhi positivi il futuro che li attende. Quanto i ragazzi ne hanno risentito sia sul piano didattico che su quello personale? Questa pandemia è stata una tragedia per tutti e diciamo in particolare per gli elementi più deboli che sono sia le persone psicologicamente fragili sia proprio i bambini, gli adolescenti che attraversano già una fase della vita in cui non hanno una personalità ben formata quindi sono disorientati e hanno paura del futuro. Quindi noi stiamo cercando adesso di rieducare proprio i ragazzi alle relazioni, alla vita, al contatto con gli altri, alla vita proprio attiva, operativa. Noi il primo giorno di scuola abbiamo aperto l'accoglienza di questi ragazzi con questa attività. Sopra abbiamo scritto una frase che tratta dal piccolo principe di Saint-Experie perché ci sembrava proprio invitante. Le stelle sono illuminate perché un giorno ciascuno possa trovare la sua. I bambini hanno realizzato le loro stelle e hanno scritto sopra i loro desideri, quello che si attendono dalla scuola e quello che si attendono dalla vita. Noi dobbiamo accendere la speranza, fargli credere che bisogna coltivare un sogno e questo sogno si può realizzare. Grazie a tutti.